Elettronica Service, sistemi di sicurezza, antifurti e videosorveglianza. Viene a trovarci in Corso Mazzini 258 a Cava dei Tirreni nei pressi dello stadio comunale. Anche tramonti sempre più innovativa. A partire da sabato scorso, infatti, nelle aree di sosta a pagamento del comune costiero, si potrà usufruire di EasyPark, il servizio di mobile parking più diffuso in Italia ed in Europa. Attraverso l'app EasyPark, scaricabile con un semplice clic sul proprio smartphone, l'automobilista può comodamente attivare e terminare la propria sosta. Molteplici vantaggi, l'utente, infatti, può risparmiare tempo nelle operazioni di sosta, prolungando la durata della sosta direttamente dal proprio cellulare, ovunque si trovi, oppure interromperla anticipatamente a rientro in auto, limitando così il costo del parcheggio alla sosta effettivamente consumata nel rispetto delle tariffe stabilite dall'amministrazione comunale. Il servizio potrà essere utilizzato in tutte le città italiane ed estere in cui è disponibile. Oltre 250 comuni italiani, tra cui le città di Napoli, Salerno, Castellammare di Stabbia, Amalfi, Biquequense, Maiori Minori, Cava dei Tirreni e molte altre città della Campania.